Perché il bidello accusato di aver palpeggiato la studentessa è stato assolto? Siccome le motivazioni sono state pubblicate, oggi le analizzeremo insieme, cerchiamo di capire insieme quindi che cosa ha scritto il giudice e poi ne valutiamo anche la logicità giuridica. Vediamo prima di tutto però che cosa è successo. Era il 12 aprile del 2022 e una ragazza stava entrando a scuola con una sua amica. Mentre stava cercando di tirarsi sui pantaloni che le erano scivolati giù, qualcuno le aveva toccato i glutei mettendo le mani proprio nel jeans e afferrando anche la biancherea intima. Operazione questa durata qualche secondo e sollevando il tutto. Inizialmente la ragazza credeva che fosse la sua amica ma quando si è girata ha visto che era proprio l'ausiliario scolastico e in quel frangente l'uomo aveva addirittura cominciato a seguirla per chiarire quel gesto, per chiarire che lui stava soltanto scherzando. La ragazza però non aveva alcun interesse a parlare con lui e lui allora era andata in classe ed aveva poi interloquito con il suo professore che a quel punto l'accompagnava dal vicepreside. Durante la pausa poi la ragazza è andata al bar della scuola dove l'uomo è arrivato e ha cercato anche di parlarle. Quando lei poi ha rifiutato lui ha iniziato ad urlare e a dirle che lei avrebbe rovinato la vita colpendo anche il bancone con la testa, dando proprio delle capocciate sul bancone. A quel punto quindi la ragazza anche un po' spaventata se n'era andata con alcuni compagni di classe. Ora, secondo il giudice il racconto della ragazza è assolutamente credibile e senza contraddizioni. Tra l'altro non c'era alcun intento calunniatorio cioè secondo il giudice la versione della ragazza è genuina e dalla stessa non traspariva alcuna ragione per la quale Costei avrebbe dovuto raccontare il falso e quindi mettere nei guai il bidello. Tra l'altro la versione veniva confermata anche dall'amica presente al momento dei fatti oltre che dal barista che aveva assistito alla parte della vicenda che era accaduta nel bar. Inoltre, e qui c'è un punto di rilievo, lo stesso bidello ha ammesso di aver toccato la ragazza ma ha detto che era soltanto uno scherzo e che non le aveva messo le mani dentro i pantaloni ma di aver tirato soltanto su il pantalone afferrandolo però dai passanti della cintura. Ora, secondo il giudice, questa azione, così come descritta dalla ragazzina è una chiara violazione dell'articolo 609b del codice penale infatti la violenza può consistere in una forza fisica diretta oppure di intimidazione che porta la vittima a subire degli atti oppure, come in questo caso, in atti lussuriosi improvvisi fatti senza il consenso della persona o comunque impedendole di dire di no. Però c'è anche un altro aspetto da considerare, dice il giudice le intenzioni dell'uomo, il dolo ed è su questo aspetto che si concentrano le maggiori critiche che ho letto online e a mio parere anche se i toni spesso non sono condivisibili comunque queste critiche a mio avviso sono fondate Il giudice dice che la sua azione, l'azione del bidello è stata molto rapida quasi un tocco leggero, fatto in un posto pubblico e in pieno giorno con altre persone vicine inoltre dice che la condotta si sarebbe conclusa con il sollevamento della ragazza cioè la ragazza veniva proprio alzata per i pantaloni e questo per il giudicante non può essere visto come un atto di desiderio un atto libidinoso questi fatti, piuttosto racconta il giudice ci fanno pensare che l'uomo non aveva intenzioni lussuriose in definitiva dunque per il giudice questo sarebbe stato soltanto uno scherzo certamente fuori luogo dato il posto in cui si trovavano e il rapporto tra lui e la ragazzina e precisa tra l'altro dicendo guardate è vero la Cassazione ci dice che anche uno scherzo può integrare il reato ma questo soltanto se c'è una illecita invasione nella sfera intima di una persona e la domanda che lui si pone allora è questa ma l'uomo voleva veramente violare la libertà intima di questa ragazzina oppure la toccata soltanto per errore e comunque per pochissimi attimi leggiamolo questo passaggio perché è veramente molto interessante il giudice scrive nel caso di specie le sovradescritte modalità dell'azione lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà della ragazza considerato proprio la natura dello sfioramento dei gruti per un tempo sicuramente minimo opposto che l'intera azione si concentra in una manciata di secondi e senza alcun indugio nel toccamento inoltre appare verosimile che lo sfioramento sia stato causato dalla manovra maldestra dell'imputato che in ragione della dinamica dell'azione posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l'uno dall'altra potrebbe avere accidentalmente e fortunatamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all'intento iniziale queste dunque sono le ragioni del giudice non è stato un toccamento volontario non l'ha fatto apposta ha fatto sicuramente un gesto non finalizzato al toccamento dei glutei ma che ciò non di meno ha finito con quell'epilogo ebbene io trovo che ci sono dei passaggi logico giuridici decisamente sbagliati e questo perché da un lato si dice lo scherzo è comunque una violenza penalmente rilevante dall'altro però si dice l'esatto opposto inoltre ed è qui proprio il punto su cui probabilmente si concentreranno i giudici dell'appello e anche quelli della Cassazione nel caso vengano poi investiti di questa vicenda è che tra la testimonianza della ragazza e degli altri testimoni dell'esame dell'imputato si è dato tanto direi veramente tantissimo credito un credito determinante all'esame dell'imputato cioè in buona sostanza il giudice non ha fatto altro che riscontrare le parole dell'imputato tradurle in senso giuridico e metterle nero su bianco il toccamento cioè c'è stato è stato involontario e comunque scherzoso è durato pochi attimi per cui manca l'elemento soggettivo del reato io la trovo in generale una sentenza poco lineare per certi versi anche poco convinta onestamente e nutro forti dubbi che avrà a lunga vita è il diritto penale che stè quindi